Il patto di Nazareno non riguarda noi, quindi sono problemi tra Forza Italia e il Renzi e il Partito Democratico. Il nostro giudizio è molto semplice, noi abbiamo con forza lavorato per cambiare il Paese governandolo e per cambiare il Paese cambiando la Costituzione e cambiando le norme e quindi le istituzioni. Su questo percorso c'era, secondo me, il doveroso e assoluto necessario dialogo anche con l'opposizione. Mi dispiace che a oggi il patto del Nazareno si sia interrotto, sono convinto che il cambiamento delle regole e della forma di questo Paese debba avvenire anche con la collaborazione responsabile da parte dell'opposizione e certo che però non si ferma, quindi mi auguro che nel percorso già questa prossima settimana alla Camera o comunque dei prossimi mesi Forza Italia continui a dare il proprio contributo perché è un meno per non Forza Italia o per il PD, è un meno per l'Italia. Tra l'altro ci troveremo poi, come abbiamo deciso tutti insieme, Partito Democratico, Nuovo Centroestere e Forza Italia poi a sottoporre, indipendentemente dai voti che le riforme costituzionali prenderanno, a sottoporre questi cambiamenti ai cittadini e come sempre il popolo sarà sovrano. Quindi per il patto del Nazareno è un problema tra Berlusconi e Renzi o Trattotti e Renzi.